buongiorno benvenuti a tutti quanti voi era che sarà segna stampa di oggi sabato 4 novembre questo che vedete è un omaggio al grande film di queste ore non l'ho visto ma insomma alla sfida borg mac and roll quando ancora c'era la fila che era italiana e l'altro c'era la sergio tacchini che era italiana ma stiamo parlando di un mondo fa in cui c'era borg mac and roll e in cui c'erano le aziende italiane che erano le più fighe nel fare le magliette e oggi non sono non ce n'è più una italiana non c'è più la sergio tacchini non c'è più la fila abbiamo forse fatto cose che rendono più soldi abbiamo perso queste e un po di come possiamo dire adesso è ritornato il vintage del della fila andiamo sulle cose serie anzi ritorniamo sulle cose ridicole come quelle del vintage oggi ho visto la pubblicità del nuovo espresso con un nuovo direttore che dice dar voce all'italia migliore l'italia migliore è sempre quella cui non fate parte voi è sempre quella degli altri quella dei moralisti quella dei delle persone per bene delle persone che dicono la cosa giusta nel momento giusto delle persone a modino no e allora c'è sempre l'idea che c'è un'italia migliore ma se c'è un'italia migliore c'è un'italia peggiore alla quale il espresso non si rivolge e io mi rivolgo all'italia peggiore quindi se se volete uno slogan della zuppa di porro mi sta venendo in mente in queste ore se io fossi il direttore della zuppa di porro ma non c'è altro che me quindi io sono il direttore di me stesso lo slogan dovrebbe essere dar voce all'italia peggiore bene quindi quelli che comprano l'espresso di da milano non certamente potranno vedere la zuppa di porro e il contrario può avvenire perché noi abbiamo questa specie di nostalgia della buccio è l'idea di ritrovarci nella melma atavica e quindi ci diverte vedere i giornali anche i più assurdi uno di questo liberi di essere peggiori bravo matteo una di queste cose che oggi mi è divertito proprio dell'italia migliore che secondo me è la peggiore è leggere marco travaglio sul sul fatto quotidiano e poi c'è sempre qualcosa di divertente quello che scrive travaglio nel senso che è talmente assurdo che è divertente oggi marco travaglio sul fatto quotidiano se la prende con la stampa che ha pubblicato ieri l'ipotesi di un avviso di garanzia nei confronti dell'appendino per la vicenda del san carlo dove morì una persona e 1500 ferite quindi lei vi ho detto già quello che penso io ieri che oggi in parte lo scrive libero renato ferina che oggi difende l'appendino io ieri la difendevo dicendo il suo vero reato è stata quella di non stare in piazza ma andare direttamente col volo privato a manchester ma comunque travaglio oggi ritornando alla nostra vicenda che cosa dice travaglio oggi travaglio oggi se la prende con il cosiddetto preavviso di garanzia cioè dice non c'è ancora nulla quelli della stampa dicono che c'è un avviso di garanzia oggi la stampa ci ritorna in due pagine spiega la rava e la fava ma io dico ma da che pulpito dal travaglio che si è inventato la culona della merkel che è una frase che non è mai esistita nelle intercettazioni e nelle carte processuali riguardo a berlusconi ma che ha sputtanato per sempre il cavaliere berlusconi nei confronti della germania e soltanto ora si è capito che non era nessuna verità processuale bene dal pulpito di quello che si è inventato ma non solo la culona della merkel ma avvisi di garanzia indagini le intercettazioni che non sono state pubblicate travaglio le intercettazioni che non verranno mai pubblicate voi avete pubblicato va a fare le pulci alla stampa perché fa il preavviso di garanzia cioè si accorce per prima degli altri che c'è un'inchiesta della magistratura contro l'appendino io dico ma 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 c'hai la faccia come il vabbè avete capito come c'è la faccia c'è quello che sapete cosa che è successo che non sono amici che in questo caso riguarda l'appendino e siccome travaglio legittimamente fa il portavoce del movimento 5 stelle quando si attacca l'appendino si attacca anche travaglio e quindi arriva l'armata di difesa mi diverte perché tutti quanti quelli che leggono travaglio considerano servi tutti gli altri servi del pd servi della gleba servi di berlusconi tutti servi invece servo e soltanto travaglio all'idea e alla politica dei suoi grillini anche perché si può essere equilibrati come oggi fa libero e che non mi sembra che sia servo né di berlusconi né del pd e neanche del momento 5 stelle oggi libero dice questo avviso di garanzia nei confronti dell'appendino mi sembra semplicemente una pagliacciata molto meglio il fatto oggi sulla pennacchi che racconta il fascio comunista pennacchi che schisse canale mussolini un libro molto divertente sulle bonifiche e sui veneti che andarono nella pianura pontina durante la seconda prima della seconda guerra mondiale e molto divertente travaglio e scusatemi pardon pennacchi quando ci racconta della assurdità del polso fermo della raggi una ridicola ipocrita raggi e soprattutto del suo assessore che che sbatte fuori da colle oppio dalla cavernetta di colle oppio la sede di ex movimento sociale oggi di alleanza nazionale quella è una sede storica ci racconta pennacchi avranno pagato poco d'affitto sicuramente ma non c'è nulla di artistico nulla di archeolo archeologico è una specie di grotta al colle oppio che rappresenta di per sé la storia dei partiti italiani in maniera romantica e ci racconta come è dispiaciuto nel volere a bottego scura e ridotta quella che è e soprattutto che sia stata come si può dire evacuata e sgombrata sloggiata la sede del movimento sociale a colle oppio con tutte le case da disoccupare a a roma ovviamente la raggi pensa soltanto a quello del miss ex miss la vera storia di oggi su tutti i giornali messaggero no su tutti i giornali messaggero ci apre il giornale pure e ci sarà una differenza questo lo dico io tra le due giovani 14enne violentate brutalmente da uno di due rom nomadi arrestati a roma di vent'anni che le hanno adescata attraverso i social network le hanno portate in un bosco le hanno legate uno faceva da palo le altre ripetutamente le violentava tra queste due 14 anni violentate a roma tutto il putiferio di weinstein perché metto insieme le due cose perché oggi è ritornata la trevisan che dice non l'ha neanche detto a me in trasmissione l'ha detto dopo qualche settimana che è stata molestata da trovato tornatore premio oscar anche lui tornatore weinstein addirittura può essere arrestato dagli stati uniti notizia di oggi per le sue violenze sessuali cioè io non sto giustificando nessuno sto semplicemente dicendo che una cosa è la violenza sessuale che quella che aveva subito due quattordici anni oggi a roma ieri a roma che deve essere perseguita durissimamente e una cosa sono le molestie sessuali che sono gravi sono gravissime che devono essere immediatamente denunciate ma che se denunciate dopo anni mi fanno pensare che ci sia qualcosa che non va perché se ti sei tornatore ti sbatte cara miliana contro un muro e tu esci da quella stanza e il giorno dopo fai non c'è bisogno neanche di un'uncia basta che fai un'intervista che tutti ti avrebbero preso e racconti l'orrendo tentativo sessualmente pesante fatto da un regista che deve dare un lavoro io penso che sia questo le ragazze di 14 anni che sono state violentate ieri hanno poco da fare interviste sono state violentate da due bestie ventenni che le hanno insomma avete capito quello che penso di questa cosa duello sulle banche perché renzi non gliela vuole lasciare libera al governatore ma io qua anche qui trovo una grande contraddizione su questa storia delle banche perché è molto semplice oggi raccontano vorrebbero fare un faccia a faccia conso cioè l'autorità di regolazione delle borse delle società quotate in borsa e banca d'italia che dovrebbe regolare le banche ma hanno appena rinnovato per sei anni il regolatore gentilone si è affrettato a rinominarlo allora è vero che c'era una scadenza ma in italia le scadenze sono una cosa abbastanza diciamo interpretabile voi fate una commissione parlamentare che mette in discussione la vigilanza nel momento in cui avete appena rinnovato per sei anni il capo della vigilanza ma qualcuno non è che si sveglia e dice scusate c'è una contraddizione in questa specie di sceneggiata italiana quindi noi che cosa faremo strizzeremo l'occhio a come si chiama ai risparmiatori dicendo vedete che abbiamo una commissione di vigilanza che farà un mazzo così alle banche dall'altra però il regolatore delle banche lo abbiamo rinnovato per i prossimi sei anni io trovo che questa sia una delle grandi incredibili farse di un paese che fa finta di attaccare responsabili di omessa vigilanza ma in realtà attacca soltanto il cappello al consenso popolare sulle banche a proposito di consenso popolare poi vai a vedere una pubblicità fatta oggi da bpm che è una cosa fantastica il nostro mutuo è vegetariano domani mi diranno che il loro mutuo è vegano dopo domani mi diranno che homosex dopo domani mi diranno che lesbico dopo domani mi diranno il nostro mutuo è golfista dopo domani mi diranno il nostro mutuo è che ne so da playstation il nostro muro è come questa maglietta è della fila e riguarda il nostro bur e al nostro mutuo è come lo scontro tra borg e me che ro insomma vendere per vendere ma si devono usare le cose fighette del momento oggi evidentemente persone serie come quelle che gestiscono il banca popolare di milano pensano che associare un mutuo al vegetarismo come si chiama il veganismo sia una cosa che porta bene complimenti la nostra zuppa non è vegetariana detto ci metto tutto quello che può essere non vegetariano stupendo e concluderei infine con il sole 24 ore dovrebbe essere una notizia ad approfondare da approfondire ma è una buona notizia e da quando c'è il jobs act che tutti odiano che salvini berlusconi la sinistra tutti quanti odiano ma da quando c'è il jobs act sono ci sono dimezzati i contenziosi gius lavoristi cioè sul lavoro sia per i contratti a tempo determinato sia per quelli indeterminato e sia per i contenziosi sull'articolo 18 direi che questo è un dato positivo perché il contenzioso sul mondo del lavoro fa male oltre che i lavoratori che è rilevante ma soprattutto alle imprese perché rende assolutamente poco competitivo da un punto di vista di sistema giudiziario il nostro contesto imprenditoriale direi che per oggi è tutto buon sabato viva borg viva anzi a me piaceva più me che romana aveva la sergio tacchini non la fila ciao